L'amministrazione comunale di Spoltore ha ottenuto 5 milioni di euro nell'ambito dei progetti ministeriali per la riqualificazione urbana. 4 milioni e mezzo serviranno per il cosiddetto Mammut, il complesso nato per ospitare un mercato coperto mai utilizzato e caduto progressivamente in degrado e abbandono. Per noi è una notizia storica perché quella è una ferita nel territorio che c'è da oltre 50 anni. In questi anni abbiamo fatto diversi tentativi e non è andato a buon fine. Adesso invece fortunatamente si è concretizzato il sogno di abbattere quello scandalo, quello brobrio per fare una struttura funzionale. Noi pensiamo di fare tre o quattro operazioni insieme, cioè nel senso recuperare un'area degradata, fare una nuova scuola dell'infanzia perché quella attuale è degli anni 50, quindi moderna e sicura. Fare un nido pubblico che nella città di Spoltore manca e allo stesso tempo ridisporre quello spazio che adesso è asilo e scuola dell'infanzia per un centro civico polivalente. I tempi dell'opera? Guarda, noi seguiamo i tempi di questo bando, quindi io credo che entro un paio di mesi approviamo la progettazione esecutiva, poi si passa l'appalto e poi iniziamo, io credo che entro l'anno inizieremo la demolizione del Mammut. Grazie. Grazie.